se a tutti e con questo video volevo rispondere ad alcune domande che vi fanno spesso negli incontri che faccio per la preparazione dei giovani fidanzati al matrimonio e sono sempre di più le persone che oggi vivono l'esperienza dell'innamoramento e appunto durante i corsi che faccio ai fidanzati preparazione al matrimonio con una sorta di accompagnamento a scoprire il mondo matrimoniale sono tante le coppie che vogliono sapere il vero valore del matrimonio e le domande che vi fanno sono innumerevoli e tutte degne di una risposta con questo video vorrei fare una sintesi delle domande più significative allora diciamo che dio dà origine al mondo partendo da una coppia di sposi adamo ed eva perché dio fa questo perché in questo mondo nel mondo terreno è necessaria la procreazione in un altro video vi spiegherò come avviene la creazione della nuova vita attraverso i quattro elementi presenti sulla terra che sono fuoco aria acqua e terra area intesa come tutti i gas acqua intesa come tutte le sostanze liquide quindi non solo acqua ma anche sostanze come l'olio l'alcol sostanze acido basiche eccetera terra intesa come i minerali e i sali e i metalli tutte sostanze che costituiscono il nostro organismo e che per mezzo delle cellule staminali vengono collocate in punti precisi per formare muscoli organi sangue fluidi e tantissime altre realtà materiali il fuoco invece inteso come energia data da ciò che si chiamano le calorie necessarie per scaturire le forze termodinamiche ma la sostanza più importante è l'insufflazione dello spirito che dio soffia su ognuno di noi senza questo soffio vitale non ci può essere la vita sarebbero come dei fantocci ma su questo tema li parlerò in un altro video ritorniamo al matrimonio la prima vocazione dell'uomo è al matrimonio la prima chiamata dell'uomo e della donna e al matrimonio in forza della procreazione per popolare la terra e questo lo si fa in collaborazione con dio questa si chiama vocazione naturale possiamo dire una vocazione fisiologica ma non tutti sono chiamati al matrimonio ci sono persone come i nati eunuchi o persone come me chiamati a una vocazione più grande sono chiamati ad un amore più grande possiamo riassumere questa vocazione alla pari di un matrimonio con la chiesa cattolica al servizio della chiesa cattolica questa si chiama vocazione alla consacrazione alla vita consacrata ma attenzione questa vocazione non è per tutti le statistiche dicono che una persona su diecimila diventa consacrato diocesano una persona su centomila diventa consacrato alla vita attiva come possono essere i frati una vocazione su un milione diventa consacrato alla vita contemplativa come sono i monaci e una vocazione su centomilioni diventa consacrato alla vita eremitica un po come me come vedete più sale legame con dio rispetto al legame con l'umanità più avviene una dinamica di separazione con l'umanità il termometro di questa separazione è dato dagli attacchi diabolici cosa significa significa che solo per il fatto di diventare padri e madri spirituali di una moltitudine di figli questo infastidisce il nemico che come obiettivo a la dispersione delle anime di dio quindi consacrarsi a dio da molto fastidio al diavolo che non perde occasione per ostacolare il lavoro degli amici di dio adesso cari seguaci attenzione a questo passaggio che ci tengo comprendiate molto bene dio sceglie personalmente i padri e le madri spirituali per i suoi innumerevoli figli ma attenzione non ce lo impone ce lo propone cosa significa dio non impone mai niente perché abbiamo il libero arbitrio però dio ha bisogno della nostra libera adesione il sì lo voglio che ho pronunciato nel giorno della mia professione religiosa ed è lo stesso sì lo voglio che si pronuncia in un matrimonio e vale per tutta la vita solo noi possiamo rompere questo patto con dio girandogli le spalle quando osserviamo il nemico quando giriamo le spalle all'amore e accogliamo l'odio quando decidiamo di vendicarci piuttosto che perdonare quando decidiamo di mettere nei guai qualcuno perché non seguivano le nostre aspettative quando decidiamo di odiare piuttosto che amare oggi dire uno sì lo voglio e stesso per tutta la vita mette paura perché quando ci dicono di fare questa cosa per tutta la vita il per tutta la vita mette paura perché sembra che ci viene tolta la libertà ma vi assicuro che amare per tutta la vita è una cosa meravigliosa fidatevi amare per tutta la vita è straordinario io sono un professionista nell'arte dell'amare questo si parte da uno si il si di maria detto davanti a un angelo davanti a un messaggero di dio quindi noi come maria possiamo dare la nostra vita a dio una vita bella ma difficile perché è difficile perché la profezia di simione vale anche per me una spada ti trafiggerà il cuore una spada mi trafiggerà il cuore questo è il prezzo da pagare per la salvezza delle anime per me è un grande una grande soddisfazione dire davanti a dio il debito di questi anime lo pago io pago io il debito che hanno contratto con dio le loro azioni malvagie e vi assicuro che quando diciamo pago io per loro immediatamente arriva una consolazione divina che ha dell'inspiegabile allora cari amici e cari amiche il sacramento più importante di tutti è il matrimonio il matrimonio è un sacramento che viene celebrato dagli sposi o meglio dall'amore degli sposi un amore che viene da dio e l'uomo non separi ciò che dio ha unito quindi se vogliamo un matrimonio con il sacrificio eucaristico ovviamente ci vuole un sacerdote altrimenti un matrimonio lo può istituire anche un sindaco un assessore un ufficiale perché il celebrante è l'amore che unisce due persone il celebrante è dio in persona passiamo al battesimo gesù dice una cosa molto importante dice ho un battesimo da ricevere non dice o il battesimo da ricevere che significa o il battesimo nel ricevere significa che c'è un solo battesimo mentre quando si parla di un battesimo ricevere significa che ci sono diversi tipi di battesimo e noi ne conosciamo di tre tipi tre tipi di battesimo il primo è quello sacramentale quello che tutti noi abbiamo ricevuto quello che scaturisce da uno dei tre si del consenso matrimoniale che sarebbe volete accogliere i figli che signore vorrà donarvi ed educarli secondo la legge di cristo e della chiesa il giorno del matrimonio i nostri genitori hanno detto sì e quel si diventa una realtà nel giorno del nostro battesimo giorno in cui siamo diventati cristiani siamo diventati figli di dio e c'è stato tolto cancellato per sempre il peccato originale il secondo battesimo è il battesimo bianco è il battesimo di desiderio immaginate di trovarvi in terra di missione dove ci sono dei giovani che si stanno preparando a ricevere il battesimo stanno facendo il catecomenato ma a un certo punto uno di questi giovani muore prima di ricevere il battesimo che significa che muore col desiderio di ricevere il battesimo non è riuscito a ricevere il battesimo non per colpa sua ma per colpa della malattia per colpa degli eventi il terzo battesimo è il battesimo rosso è il battesimo di sangue quando a una persona in terra di missione viene imposta di abbandonare la fede cattolica di abbiurare la cristianità e viene costretta a non prepararsi a ricevere il battesimo allora la persona che fa insiste e dice io voglio diventare cristiana quindi col suo martirio col suo sangue è stato battezzato è in questo caso e viene anche scritta nell'elenco dei martiri dei testimoni della fede diventa una persona santa degna di essere venerata non pensiate che il battesimo sia il primo di tutti i sacramenti no il primo di tutti i sacramenti è il matrimonio perché dal matrimonio nascono tutti i sacramenti se i nostri genitori non avessero detto il sì ad accogliere i figli ed educarli secondo la legge di cristo e della chiesa noi non saremmo stati battezzati non saremmo stati cresimati non si saremmo sposati non ci saremmo non saremmo diventati consacrati preti suore monaci eremiti non saremmo diventati niente ecco perché il matrimonio è quel sacramento che unisce l'amore di due persone che scaturisce dall'amore di dio un amore di due persone che diventano una sola e deve rispecchiare quello che è l'amore trinitario l'amore tra il padre il figlio e lo spirito santo e con questo video è tutto è un arrivederci al prossimo video